Nei primi tre mesi di quest'anno all'INAIL sono arrivate 185 denunce di infortunio mortale avvenute sul lavoro, 19 in più del 2020. Nei primi cinque mesi del 2021 si sono registrati sul nostro territorio due casi mortali nel settore trasporti e durante la polizia di un silos. Il tema della sicurezza in ambito lavorativo è sempre di grande attualità. A ribadirlo l'incontro che si è svolto nei giorni scorsi in prefettura Verona a cui hanno preso parte i rappresentanti provinciali delle Forze dell'Ordine, dello Spisa, dell'Inps, dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, le organizzazioni sindacali. Un incontro per provare a pensare ad azioni concrete. Noi abbiamo manifestato tutto il nostro disappunto e la nostra preoccupazione all'interno di un presidio che abbiamo fatto a maggio. Successivamente con il prefetto abbiamo provato a ragionare sulla fattibilità di una grande manifestazione straordinaria che si metterà i primi di luglio e che vedrà il coinvolgimento di tutti gli RLS della provincia di Verona. Non solo, nostra intenzione, proprio per allargare la platea a tutte le figure interessate, vorremmo coinvolgere anche i rappresentanti di RSPP che sono i rappresentanti della sicurezza di parte datoriale. Da questa manifestazione il vostro obiettivo è quello di fare a rete e di rilanciare il tema della sicurezza nei diversi ambiti ma anche la formazione. Certamente sì, perché nostra intenzione con l'aiuto del prefetto che si è dimostrato assolutamente attento e sensibile al tema, vorremmo coinvolgere anche gli enti preposti. Il senso è quello di aumentare la cultura sulla sicurezza. Ce n'è bisogno più investimenti in sicurezza, più formazione, anche suggerirei dei datori di lavoro, più controlli, soprattutto rispetto al lavoro in regolare, perché il lavoro in regolare è sempre foriero di poca sicurezza.